4. 23 e 48, CDT. Vicino a Wichita, Kansas. Stavano litigando di nuovo. La ragazzina strinse forte gli occhi e si tirò il cuscino sopra la testa, ma le voci le arrivavano lo stesso, attutite e distorte, quasi inumane. «Sono nauseato e stanco di questa merda, donna, lasciami in pace! Che dovrei fare? Ridere mentre tu esci a berti e a scommettere i soldi che io guadagno? Quei soldi dovevano servire per l'affitto di questo dannato caravan e per comprare qualcosa da mangiare. Per Dio, tu sei uscito e li hai gettati via, li hai gettati! Lasciami in pace, cazzo, ti ho detto, guardati! Sembri una vecchia puttana consumata, sono stufo marcio di te che mi ronzi intorno, tirandomi addosso la tua merda in continuazione! Forse dovrei fare qualcosa in proposito, eh? Forse dovrei solo fare le valigie e portare il mio culo fuori da qui! E vattene allora! Vattene e porta con te quella bambina inquietante! Lo farò! Non pensare che non lo farò!» La discussione andò avanti e indietro, con le voci che diventavano più forti e cattive. La ragazzina era emersa per respirare, ma teneva gli occhi chiusi con forza e si riempiva la mente con il suo giardino, appena fuori dalla finestra della sua angusta cameretta. La gente di tutto il parco caravan veniva a vedere il suo giardino e a parlare di quanto stessero crescendo bene i fiori. La signora Jäger, della porta accanto, diceva che le violette erano bellissime, ma che non aveva mai sentito dire che fiorissero così tardi e con un tempo così caldo. Anche le giunchiglie, le bocche di leone e le campanule stavano crescendo forti, ma per un certo tempo la ragazzina le aveva sentiti morire. Li aveva annaffiati, aveva lavorato il terreno con le dita e si era seduta in mezzo al suo giardino nella luce del mattino, osservando i suoi fiori con occhi azzurri come uova di petti rosso e finalmente i suoni della morte erano spariti. Adesso il giardino era una sana esplosione di colori e anche la maggior parte dell'erba intorno al caravan era di un ricco verde scuro. L'erba della signora Jäger era marrone, anche se la annaffiava con la pompa quasi ogni giorno. Ma la ragazzina l'aveva sentita morire molto tempo prima, anche se non voleva rattristare la signora Jäger dicendoglielo. Forse sarebbe rinata con l'arrivo della pioggia. La cameretta era riempita da una gran quantità di piante da vaso, appoggiate su ripiani di blocchi di calcestruzzo e ammassate intorno al letto. La stanza possedeva l'aroma inebriante della vita e addirittura un piccolo cactus in un vaso di ceramica rossa aveva fatto spuntare un fiore bianco. Alla ragazzina piaceva pensare al suo giardino e alle sue piante quando Tommy e sua madre litigavano. Riusciva a vedere il giardino nella sua mente, riusciva a visualizzare tutti i colori e i battali e sentire la terra tra le dita. E queste cose l'aiutavano ad allontanarsi dalle voci. «Non toccarmi!» gridò sua madre. «Bastardo! Non ti permettere di colpirmi di nuovo! Ti prendo a calci in culo se voglio!» Si udì il rumore di una lotta. Altre imprecazioni seguite dal rumore di uno schiaffo. La ragazzina trassalì e le lacrime bagnarono le sue ciglia bionde tenute abbassate. «Smettete di litigare!» pensò freneticamente. «Per favore! Per favore! Per favore! Smettete di litigare!» «Stai lontano da me!» Qualcosa colpì la parete e andò in frantumi. La bambina si mise le mani sulle orecchie e restò sdraiata al letto, rigida, pronta a gridare. C'era una luce, una luce morbida che brillava sulle sue palpebre. Aprì gli occhi e si sedette. E lì, davanti alla zanzariera della finestra dall'altro lato della stanza, c'era una massa pulsante di luce. Un bagliore giallo pallido, come di mille candeline di compleanno. La luce si spostava come i vortici di un dipinto di fiamme, e mentre la bambina la fissava, incantata, il rumore del litigio si affievolì e si allontanò. La luce si rifletteva nei suoi occhi spalancati, si muoveva sul suo viso a forma di cuore e danzava tra i suoi capelli biondi che le arrivavano alle spalle. L'intera stanza era illuminata dal bagliore della creatura di luce che restava al vetro della finestra. Lucciole, si rese conto. Centinaia di lucciole attaccate alla zanzariera. Le aveva già viste alla finestra, ma mai così tante e mai lampeggiate tutte contemporaneamente. Pulsavano come stelle che tentavano di farsi strada bruciando attraverso la zanzariera, e mentre le fissava non udiva più le orribili voci di sua madre e di zio Tommy. Le lucciole lampeggianti attiravano tutta la sua attenzione, con i loro schemi di luce che la ipnotizzavano. Il linguaggio della luce cambiò. Assunse un ritmo diverso, più rapido. La ragazzina ricordò una sala degli specchi alla Fiera dello Stato, e come le luci si riflettevano scintillanti nel vetro lucidato. Adesso si sentiva come se si trovasse in piedi, in mezzo a mille lampade, e mentre il ritmo diventava sempre più veloce, esse sembravano vorticare intorno a lei con velocità stordente. «Stanno parlando», pensò. «Parlano nel loro linguaggio. Parlano di qualcosa di molto, molto importante». «Suan, tesoro, svegliati!» «Parlano di qualcosa che sta per accadere». «Non mi senti?» «Qualcosa di brutto che sta per accadere molto presto». «Suan!» Qualcuno la stava scuotendo. Per qualche secondo fu persa nella sala degli specchi e accecata dalle luci lampeggianti. Poi ricordò dove si trovava, e vide le luciole allontanarsi dalla finestra, innalzandosi nella notte. «Maledetti insetti su tutta la finestra!» sentì dire a Tommy. «Suan distorse lo sguardo da esse con uno sforzo che le tese il collo. Sua madre era in piedi accanto a lei, e alla luce della porta aperta, «Suan riuscì a vedere il rigonfiamento violaceo intorno all'occhio destro di sua madre». La donna era magra e smunta, con i capelli biondi ingarbugliati che mostravano le radici castano scuro. Mosse lo sguardo avanti e indietro tra il volto di sua figlia e gli ultimi insetti che stavano volando via dalla zanzariera. «Cosa c'è che non va?» «È inquietante», disse Tommy, con il corpo dalle spalle ampie che bloccava la porta. Era tozzo e sciatto, con un'incolta barba bruna che copriva una mascella squadrata e il suo volto aveva le guance grosse e carnose. Indossava un cappellino rosso, una maglietta e una tuta da lavoro. «Non ha le rotelle a posto», disse, e beve da una bottiglia di Miller High Life. «Mamma?» La bambina era ancora stordita, con le luci che ancora brillavano in fondo ai suoi occhi. «Tesoro, voglio che ti alzi e che ti vesti. Ce ne andiamo all'istante da questo dannato letamaio, mi hai capito?» «Sì, mamma». «Non andrete da nessuna parte», disse Tommy con tono di scherno. «Dove avreste intenzione di andare?» «Il più lontano possibile. Sono stata stupida a trasferirmi qui con te fin dall'inizio. Alzati, tesoro, mettiti i vestiti. Dobbiamo andarcene appena possibile». «Hai intenzione di tornare da Rick Dawson?» «Sì, vai pure, ti ha buttata fuori già una volta e io ti ho accolta. Vai e fatti cacciare di nuovo». Lei si voltò verso di lui e disse con freddezza «Togliti dai piedi, o quanto è vero Dio ti ammazzo». Gli occhi di Tommy erano socchiusi e pericolosi. Beve di nuovo la bottiglia. Si leccò le labbra e poi rise. «Certo!» Fece un passo indietro e poi si esibì in un gesto esagerato del braccio. «Passate pure! Pensi di essere una dannata regina? Passa pure!» Lei guardò la sua bambina con uno sguardo che la incitava a sbrigarsi e lo superò uscendo dalla cameretta. Swan scese dal letto e, con addosso la sua camicia da notte della Wichita State University della misura per bambini di nove anni, corse alla finestra e sbirciò all'esterno. Le luci del caravan accanto, della signora Jaeger, erano accese e Swan immaginò che il rumore probabilmente l'aveva svegliata. Swan guardò in alto e restò a bocca aperta per lo stupore. Il cielo era pieno di ondate di stelle scintillanti in movimento. Ruote di luce rotolavano nell'oscurità sopra il parco caravan e strisce di fuoco giallo salirono zigzagando nella foschia che oscurava la luna. Migliaia e migliaia di lucciole stavano passando in alto, come galassie in movimento con i loro segnali che formavano catene di luce che si estendevano da ovest a est fin dove arrivava lo sguardo di suon. In un punto del parco, un cane iniziò a ululare. Quel suono fu ripreso da un secondo cane, poi da un terzo e poi da altri cani nel rione al di là della interstatale 15. Altre luci si stavano accendendo nei caravan e la gente stava uscendo all'esterno per vedere cosa stesse accadendo. «Sento Dio, che chiasso!» Tommy stava ancora sulla soglia. Urlò «Fate silenzio, cazzo!» e finì il resto della sua birra con un unico sorso arrabbiato. Fissò suon con uno sguardo malevolo e velato. «Sarò felice di liberarmi anche di te, piccoletta. Guarda questa dannata stanza, tutte queste piante, questa merda, Cristo! Questo è un caravan, non una serra!» Diede un calcio a un vaso di gerani e suon trassalì, ma tenne duro, con il mento alto, e aspettò che se ne andasse. «Voi sapere di tua mamma, piccoletta?» le chiese con tono ambiguo. «Voi sapere di quel bar dove balla sui tavoli e lascia che gli uomini le tocchino le tette?» «Stai zitto, bastardo!» gridò la donna, e Tommy si voltò in tempo per fermare il suo pugno con l'avambraccio. La spinse via. «Sì, dai, Darlene, mostra la mocciosa di cosa sei fatta. Dille di tutti gli uomini che hai avuto. Oh, sì, dille di suo padre. Raccontale di com'eri così piena di LSD e PCP e di sa' io cos'altro, al punto che non ricordi nemmeno il nome di quello stronzo!» Il volto di Darlene Prescott era contorto per la rabbia. Anni prima era stata una bella donna, con zigomi pronunciati e occhi azzurro scuro che comunicavano una sfida sessuale a qualsiasi numero di uomini. Ma adesso il suo volto era stanco e pendente, e rughe profonde le attraversavano la fronte e le circondavano la bocca. Aveva solo 32 anni, ma sembrava più vecchia di almeno 5 anni. Era infilata in un paio di jeans e indossava una camicia da mandriana gialla, con lustrini sulle spalle. Volse le spalle a Tommy e andò nella camera da letto padronale del caravan, con gli stivali di pelle di salamandra che echeggiavano sul pavimento. «Ehi!» disse Tommy ridacchiando. «Non fare la matta ora!» Suon iniziò a togliere i suoi vestiti dai cassetti, ma sua madre tornò con una valigia, già piena di abiti sgargianti e stivali, e vi ficcò dentro tutti i vestiti di Suon che riuscì a farci stare. «Ce ne andiamo all'istante!» disse a sua figlia. «Andiamo!» Suon si fermò, guardandosi intorno nella stanza piena di piante e fiori. «No!» pensò. «Non posso lasciare tutti i miei fiori! È il mio giardino! Chi annarferà il mio giardino?» Darlene si appoggiò sulla valigia, la premette finché non si chiuse e fece scattare le chiusure. Poi afferrò la mano di Suon e si voltò per andare. Suon ebbe solo il tempo di afferrare la sua bambola a forma di cookie monster, prima di essere trascinata fuori dalla camera, nella scia di sua madre. Tommy le seguì con una nuova birra in mano. «Sì, andate pure! Sarai di nuovo qui domani sera, Darlene! Aspetta e vedrai!» «Aspetterò!» rispose lei e uscì dalla porta a zanzaliera. Fuori, nella luce fumosa, gli ululati dei cani arrivavano da tutte le direzioni. Fasci di luce passavano in cielo. Darlene guardò in alto per osservarli, ma non esitò nel tragitto fino alla Camaro Rosso Chiaro, parcheggiata accanto al marciapiede, dietro al pick-up Cevi modificato di Tommy. Darlene ingettò la valigia sulla panca posteriore e si infilò dietro al volante, mentre Suon ancora in camicia da notte salì dal lato passeggero. «Bastardo!» ansimò Darlene mentre armeggiava con le chiavi. «Le la faccio vedere io!» «Ehi! Guardate qua!» gridò Tommy e Suon guardò. Inorridì vedendolo ballare nel suo giardino, con le punte affilate dei suoi stivali che sollevavano zolle e i tacchi che calpestavano a morte i suoi fiori. Si mise le mani nelle orecchie perché sentiva i loro suoni di dolore innalzarsi come le corde pizzicate di una steel guitar. Tommy ghignava e saltellava, si tolse il cappellino e lo lanciò in aria. Dentro Suon fluì una rabbia ardente e lei desiderò che zio Tommy morisse perché faceva del male al suo giardino. Poi però il lampo di rabbia passò, lasciandola con il mal di stomaco. Lo vide chiaramente per quello che era, un idiota grasso che stava diventando calvo e che al mondo aveva solo un caravan malmesso e un pick-up. Qui sarebbe invecchiato e morto, non permettendo a nessuno di amarlo perché aveva paura, proprio come sua madre, di avvicinarsi troppo. Vide tutto questo e lo comprese in un secondo. E sapeva che il suo piacere nel distruggere il suo giardino sarebbe finito con lui, come al solito, inginocchiato in bagno sopra il gabinetto e quando avrebbe finito di sentirsi male avrebbe dormito da solo e si sarebbe svegliato da solo. Ma lei poteva sempre piantare un nuovo giardino. E l'avrebbe fatto, nel prossimo posto in cui sarebbero andate, ovunque sarebbe stato. Disse «Zio Tommy». Lui smise di ballare, con la bocca che la derideva e un'imprecazione sulle labbra. «Ti perdono», disse la bambina, piano. E l'uomo la fissò come se lo avesse colpito in pieno volto. Ma Darlene Prescott gli gridò «Vaffanculo!» e il motore della Camaro si accese, suonando come il ruggito di un cannone. Darlene schiacciò il piede sull'acceleratore, sgommando per dieci metri prima che gli pneumatici facessero presa, portandole fuori dal parco Caravan Interstatale 15, per sempre. «Dove stiamo andando?», chiese Swan, stringendo il suo pupazzo, dopo che lo stridio delle ruote era cessato. «Beh, penso che troveremo un motel per passare la notte. Poi di mattina andrò al bar e cercherò di ottenere del denaro da Frankie». Fece spallucce. «Forse mi darà cinque dollari». «Forse». «Hai intenzione di tornare dallo zio Tommy?» «No», rispose Darlene con fermezza. «Ne ho abbastanza di lui. È l'uomo peggiore che abbia mai conosciuto e, Cristo, non riesco a capire che cosa ci abbia trovato in lui». Swan ricordò che aveva detto la stessa cosa sia di zio Rick che di zio Alex. Riflettesse fare la domanda che aveva in mente oppure no. Poi fece un respiro profondo e disse «È vero, mamma, quello che Tommy ha detto di te? Che non sai che era davvero mio papà?» «Non dirlo nemmeno», scattò la donna. Concentrò l'attenzione sul lungonastro di strade. «Non pensarla nemmeno una cosa del genere, signorina. Te l'ho già detto. Tuo padre è una famosa star del rock and roll. Ha capelli biondi e ricci e occhi azzurri come i tuoi. Gli occhi azzurri di un angelo caduto sulla terra. Quanto è bravo a suonare la chitarra e a cantare. Gli uccelli sanno volare. Oddio, sì. E ti ho detto tante volte che non appena divorzierà da sua moglie, noi andremo a vivere a Hollywood, in California. Non sarebbe grandioso? Tu e io che viviamo sulla Sunset Strip?» «Sì, mamma», disse suona patica. Aveva già sentito quella storia. Tutto ciò che voleva era vivere in un posto per più di quattro o cinque mesi, per farsi degli amici che non avrebbe temuto di perdere e andare alla stessa scuola per tutto l'anno. Dato che non aveva amici, dedicava tutta la sua energia e l'attenzione ai suoi fiori e alle piante, passando ore a creare giardini nella ruvida terra di parchi per caravan, pensioni e motel economici. «Mettiamo un po' di musica alla radio», disse Darlene. L'ha accese e dagli altoparlanti esplose del rock'n'roll. Il volume era così alto che Darlene non fu obbligata a pensare alla bugia che di tanto in tanto aveva raccontato a sua figlia. In realtà sapeva solo che lui era un bel fusto alto e biondo e il cui preservativo si era strappato mentre lo facevano. Non l'era importato all'epoca. C'era una festa e nella stanza accanto tutte si stavano scatenando e sia Darlene che il fusto erano straffatti di un misto di LSD, polvere d'angelo e popper. Quello era accaduto quando viveva a Las Vegas, nove anni prima, e lavorava come croupier al tavolo del blackjack e da allora lei e suon avevano vissuto per tutto l'Ovest, seguendo uomini che promettevano di essere divertenti per un po' o lavorando come ballerina in topless ogni volta che riusciva. Ora però Darlene non sapeva dove stavano andando. Era stufa di Tommy, ma ne aveva anche paura. Era troppo pazzo, troppo cattivo. Era probabile che sarebbe andato a cercarle dopo un paio di giorni se non fosse riuscita ad arrivare abbastanza lontana. Frankie, dell'I non saloon dove ballava, avrebbe potuto darle un anticipo sulla sua prossima paga, ma dopo? A casa, pensò. Casa era un posticino chiamato Blakeman nella contea di Rawlings nell'angolo nord-occidentale del Kansas. Era scappata di casa a sedici anni, dopo che sua madre era morta di cancro e suo padre aveva iniziato a impazzire per la religione. Sapeva che il vecchio la odiava ed era per quello che se n'era andata. Si chiese come sarebbe stata casa adesso. Immaginò che a suo padre sarebbe caduta la mascella quando avrebbe scoperto di avere una nipote. Diavolo no, non posso tornare lì. Ma stava già calcolando il percorso che avrebbe seguito se avesse deciso di andare a Blakeman. A nord, lungo la 135 fino a Salina, a ovest attraverso i campi ondeggianti di mais e grano sulla interstatale 70, di nuovo a nord, su strade di campagna dritte come frecce. Avrebbe ottenuto abbastanza denaro da Frankie per pagare il carburante. «Ti piacerebbe fare un viaggio domani mattina?» «Dove?» chiese la bambina, stringendo più forte il suo pupazzo. «Oh, da qualche parte. Un paesino chiamato Blakeman. Non succedeva molto l'ultima volta che ci sono stata. Potremmo andarci e riposare per qualche giorno, raccogliere le idee e pensare, giusto?» Suon fece spallucce. «Penso di sì», disse, ma non le importava davvero. Darlene abbassò il volume della radio e mise il braccio intorno a sua figlia. Guardando in alto, pensò di vedere un lampo di luce in cielo, ma poi svanì. Strinse la spalla di Suon. «Siamo solo tu e io contro il mondo, piccola», disse. «E sai una cosa? Noi vinceremo se continueremo a lottare». Suon guardò sua madre e voleva, voleva davvero moltissimo crederle. La Camaro continuò ad avanzare nella notte lungo l'autostrada che scorreva e, tra le nuvole, centinaia di metri più in alto, catene viventi di luce si collegarono nel cielo.